Ancora lacrime versate su una piccola bara bianca, ancora tanta commozione tra i cipressi di un cimitero, ancora tanta indegnazione per altri morti in viaggio verso la terra promessa. Vittima adesso è una neonata di 5 mesi, mai vel suo nome, figlia di Guenani, morta di stenti, fame e sete, durante la traversata nel canale di Sicilia. Il barchino su cui ha navigato insieme alla mamma e alla sorolina di due anni è stato corso lo scorso 28 maggio in Acque Sar Libiche. La neonata è stata già rinvenuta morta dai soccorritori, esame tra le braccia della madre. La salma di Maiva è stata trasferita da Lampedusa a Porto Empedocle e poi è stata tumulata nel cimitero di Favara. Presente tra gli altri la giovane mamma, delenata dal dolore dopo aver perso anche il marito 6 mesi fa durante un naufragio dinanzi alle coste libiche. È tragedia sulla tragedia perché poi fai mille pensieri, si poteva salvare, se gli aiutavano prima, se non ci ostiniamo come nazione democratica a far finta che il problema non esista. Noi ospitiamo nel cimitero di Favara tantissimi neonati, bambini ed è ogni volta una tragedia in mano, un dolore immenso. Come dico sempre fa male, ma quando ci sono presenti dei familiari, in questo caso la mamma, che piange, si dispera, dimostra tutta la propria rabbia, è un dolore che non riusciamo a trattenere, è un dolore che non riusciamo a spiegarci. E come dico ogni volta si parla di emergenza, emergenza non è più, in realtà bisognerebbe prendere coscienza del fatto che queste persone arrivano e vanno aiutate, e continuare a trattarle come se fosse un'emergenza e venire bene i nostri valori di democrazia, di solidarietà, su cui si fonda e si basa la nostra nazione. Un momento molto difficile per la signora, è sotto shock, ancora non ha rielaborato il lutto purtroppo, i due lutti che purtroppo attualmente sta vivendo la signora. Noi stiamo cercando di aiutarla in tutti i modi, assistendola con i colloqui psicologici, con il supporto di Medici Senza Frontiere e con il supporto della Prefettura di Agrigento, che ci sta stando di vicino e trovare anche una struttura più piccola, dove la signora possa stare più tranquilla e serena e vivere e rielaborare il lutto delle due gravi perdite subite.